Portare un sorriso ed aiutare chi ne ha più bisogno. Questo lo scopo del VISPE, Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti. Un'associazione nata alla fine degli anni Sessanta, al fine di realizzare nei paesi in difficoltà una chiesa missionaria, attraverso volontari laici e religiosi. Agostino Fedeli, presidente del VISPE. Ogni volta che il VISPE incomincia ad operare in un paese, instaura un patto di solidarietà con le persone del posto, per tentare di migliorare le loro condizioni di vita. Assieme a loro si vedono le necessità, si danno delle priorità, dopodiché si incomincia ad operare. Siamo presenti in Burundi da 50 anni, con un progetto multisettoriale che dà lavoro direttamente a più di 1500 persone e a un numero molto più ampio di persone coinvolte indirettamente. Dal 1992 operiamo in Brasile, nel nord-est del paese e precisamente nella cittadina di Arami dello stato del Maragnon. In Nepal siamo dal 2002, da 5 anni operiamo nella città di Battaglias, sull'altopiano boliviano. Tanti progetti a favore dei paesi in via di sviluppo per contrastare la miseria e la malattia e donare speranza per un futuro migliore, ancora fedeli. Di iniziative ne abbiamo intraprese tantissime, soprattutto in Burundi, toccando un po' tutti gli ambiti della vita della gente. agricoltura, artigianato, sanità, scuola, habitat. Abbiamo sempre cercato di dare meglio di noi stessi da un punto di vista professionale, nei vari campi in cui ci siamo impegnati. Abbiamo sempre chiesto ai nostri volontari di farlo con l'animo di chissà che è una fortuna, un dono poter operare a servizio dei poveri. Dobbiamo saper trasmettere speranza, positività, coraggio. Tanti volontari che aderiscono ai progetti, felici di andare verso i poveri e condividere momenti della quotidianità, come ci ha raccontato Edoardo Boerci, che ha trascorso diversi mesi in Burundi. Sono stati mesi molto intensi sotto ogni punto di vista, mesi di lavoro, servizio e gioia di stare insieme al povero, condividendo la semplicità della vita quotidiana e della missione insieme alla gente. Questa espressione, insieme alla gente, è fondamentale perché è stato questo un po' il filo rosso che ci ha accompagnato ogni singolo giorno che abbiamo trascorso in Burundi. Che si trattasse di aiutare a fare i mattoni di fango per le case o di dare una mano nei campi o anche solo di andare a visitare i bambini dell'orfanotrofio della missione o di tirare due calci a un pallone fatto di foglie di banano. Quello che abbiamo sempre cercato di tenere in primo piano è stata proprio la particolare e costante attenzione al povero e il condividere con lui le fatiche ma anche le piccole gioie delle giornate.